Siamo arrivati al Team Academy 121 Madbross Team, qui con noi il titolare di Madbross Simone Colombo, abbiamo visto un team tutto nuovo, colori sgargianti. Colori eccezionali direi. Allora la particolarità del vostro team è che si avvale di un trainer particolare, ovvero un tre volte mondiale. Chico Chiodi, che ha iniziato con noi a fare le gare dell'internazionale d'Italia, seguirà tutto l'anno i ragazzi della 125, il team della 125, con Magre Baraiolo e poi darà anche una mano a seguire tutte le categorie dei minicross. E quindi quanti piloti avete schierato come formazione in questo primo round del minicross? Abbiamo Barcella nella debuttanti, abbiamo Giuzio, Crippa e Dusi nella cadetti, nella junior invece abbiamo Olivi e Lugana. Quindi una formazione ampia che, come abbiamo detto prima, oltre al campionato italiano minicross poi vedrà la classe regina, diciamo, dei giovani, la 125 e lì abbiamo Baraiolo che è campione italiano senior minicross e Magri, quindi due piloti tutti da scoprire. Sì, tutti da scoprire, si sta lavorando tanto, aveva fatto un primo infortunio Magri nella prima gara internazionale d'Italia, però si sta riprendendo. Michele invece ha grande forza, capabilità, vedrai che salterà fuori qualche bel risultato. E oltre all'attività nazionale, quest'anno parteciperete ai round italiani dell'europeo, giusto? Sì, ci sarà qualche round dell'europeo italiano sicuramente. Ok, ringraziamo quindi Matt Bros, appuntamento a più tardi. Grazie.